Amici di Youtube ben trovati da Marco Liguri in questo video parliamo di un triste lutto per il mondo del cinema e per le serie tv a 89 anni ci ha lasciato il caratterista americano Richard Roth per chi non lo conoscesse o semplicemente per chi non lo ricordasse diciamo che Richard Roth per oltre un trentennio ha preso parte a film e serie tv tra le più famose ne ricordiamo alcune happy days Dallas e friends Richard Roth ha preso parte ad oltre 130 lavori televisivi in tutta la sua carriera il secondo canale di Marco Liguri ricorda Richard Roth caratterista americano scomparso a 89 anni amici di Youtube io vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento iscrivetevi al canale condividete questo video